Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova night session, quella di sabato 3 settembre. Sono le 21.57 e aprirei con una massima di Jung. Jung diceva che pensare è molto difficile, ecco perché la maggior parte della gente giudica. E qui noi non giudichiamo, non diamo opinioni perché sappiamo che è assolutamente inutile e vediamo però anche nei commenti cosa succede a chi dà delle opinioni. Allora, cosa abbiamo fatto? A che punto ci siamo lasciati? Ci siamo lasciati a un punto interessante, ovvero che pensavamo potesse essere partito da dove? Da qui un sesto t-3 nuovo per vari motivi ed è ancora una delle possibilità che abbiamo ma sembra dalla forma che questa sia in realtà la vera partenza del sesto t-3. Abbiamo delle differenze se lo facciamo partire da una parte oppure dall'altra? Se lo facciamo partire da questa siamo alla 44esima barra e quindi tra poco dovremmo vedere un rimbalzo che potrebbe per l'ennesima volta riportarci verso la media mobile in rosso a 50 periodi in questo periodo di forti laterali tra i 19.540 e i 20.589 ovvero all'interno di circa 1000 dollari di spazio. Vi faccio notare che cosa avevamo scritto nell'ultima analisi che eravamo short e sembra che si stia rimanendo per la maggior parte del tempo se prendiamo una mediana circa, molto più sotto rispetto a sopra. Sopra si rimane soltanto per questo pezzo, sotto si continua a rimanere e non si riesce a superare se non temporaneamente la media mobile a 50 periodi in rosso e soprattutto il livello superiore dell'acumo. Anzi, le divergenze ribassiste ci hanno sempre continuato a far scendere. A questo punto vi faccio notare che dobbiamo ragionare sui tempi. Qui siamo già arrivati a 77 giorni di un ciclo T più 3 trimestrale. 77 giorni non sono pochi perché un trimestrale al massimo ne dura 84. Quindi abbiamo ancora, iniziate a segnarvelo, 7 giorni per provare a scendere? No, se non contiamo i raccordi ne abbiamo meno. E quanti ne abbiamo in realtà per provare ancora a raggiungere un minimo inferiore a quello fatto per far partire il quinto T settimanale? Ne abbiamo al massimo 5, quindi non 7 ma 5. Al massimo potremmo arrivare a 82 giorni di T più 3. Che cosa vediamo? Vediamo che siamo alla sesta barra di questo potenzialmente quinto T settimanale, ciclo settimanale che parte da minimi, sviluppa massimi e poi scende, con massimi decrescenti, mentre invece il nostro indicatore ha dei massimi vagamente crescenti o in pari, e questo ci basta per le divergenze che ci hanno fatto comunque appunto scendere, e quindi in realtà stiamo cercando un minimo, e il minimo target sappiamo qual è, e 19.540 per andare a chiudere non soltanto il secondo mensile, questo, che è arrivato a 39 giorni, ed essendo arrivato a 39 giorni, ammette soltanto di arrivare fino a 43, quindi abbiamo poco tempo. Abbiamo quattro possibilità ancora di andare a scendere, contro, se non ci sarà un raccordo e partirà direttamente un nuovo T più 3, 48 di salire, 4 a 48. Interessante? Direi proprio di sì, anche perché questa lateralità, quella degli ultimi giorni, sinceramente è stata abbastanza noiosa, noi siamo riusciti comunque a guadagnare, in ogni caso siamo andati in gain, e non abbiamo perso una sola volta, se abbiamo utilizzato in maniera corretta gli stop loss e i take profit, e l'ultima operazione è andata in maniera corretta. Qui soltanto ci sono delle cose per cui propenderei a far partire da qui il sesso T-3, altre per cui lo farei partire da qui. Da qui abbiamo entrambe le condizioni rispettate per la partenza, da qui no, manca una delle due condizioni. Oltretutto, come detto, avremo però una bella chance dopo questa 44esima potenzialmente bar se avremo una forte salita o almeno una salita di nuovo a vedere se si andrà a superare qualcuno di questi massimi avremo idea di che cosa fare. Se invece non avremo risposte particolari consideriamo partito da qui il sesto di meno di meno 3 che sta lentamente candela dopo candela parte lateralizzando trovando nuovi minimi. Anche dopo questa candela dei 19.653 siamo andati a 646 dollari. Ma il tempo è esaurito nel senso che non siamo a prima delle 24 barre per cui abbiamo un vantaggio siamo a 35 forse anche questa la centratura. Qui ribadisco da qui il sesto di meno 3a serenamente le due condizioni per la partenza da qui ne manca una. Oltretutto anzi a differenza di una centratura da privilegiare da qui da qui ecco da qui ci sarebbe una cosa che ci fa pensare a una possibile ripartenza poi verso l'alto chiuso questo settimanale molto neutro. Neutro perché? Perché stiamo tornando come vedete persino sotto il 78.6 il 79% di ritracciamento di Fibonacci da questo massimo da questo minimo a questo massimo siamo scesi talmente tanto che siamo tornati sotto il 78.6 c'era chi privilegiare i long ma come al solito pensare è molto difficile e lasciamo perdere il resto della citazione di Jung che potete risentire all'inizio qui siamo molto vicini oltretutto al target finale di questo T settimanale che dovrebbe essere sotto i 19.540 ma un T più 3 è un T più 3 ci può essere anche un raccordo certo il raccordo può farci tornare anche potrebbe farci chiudere qui in questo momento e poi rimbalziamo per far partire un nuovo trimestrale sì 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 assolutamente ed è in questi momenti in cui tutto può succedere un HFT può venire sconvolgere completamente quelle che sono le carte in tavola che noi preferiamo fare una cosa sapete vero che cosa preferiamo fare giusto preferiamo attendere che è la cosa peraltro più difficile per un trader alle prime armi vuole sempre investire vuole sempre entrare tutti i giorni vuole avere una nuova analisi per sapere che cosa fare e però la pazienza qualcuno diceva tempo fa che è la virtù di chi dei forti e noi vogliamo essere forti per cui come suggerito già in tanti altri video quando ci si prepara a qualche cosa che sta per arrivare quando qualche cosa deve finire e quando ci sono varie possibilità sul tavolo tutte assolutamente plausibili per le regole lo so che costa attendere però è il modo migliore per non fare stupidaggi è vero ritorniamo facciamo un passo indietro allora il passo indietro è questo ritorniamo alle regole per avere una chiusura come si deve di t più 3 ci serve un minimo che vada qui sotto già detto 19.540 però tra un t più 3 e un t più 3 ci può essere un raccordo di grado di settimanale e questo è un t settimanale quindi si potrebbe anche non scendere qui sotto si potrebbe scendere un pochino qui sotto se si scendesse qui sotto comunque arriveremmo a un t più 3 se dovessi se fosse obbligato con una pistola alla testa a scegliere un trade di medio periodo con molta paura perché siamo tanto vicini di nuovo ai 17.605 in questo momento siamo a 2.100 dollari scarsi valuterei se mettermi long perché in ogni caso raccordo o chiusura di trimestrale potrebbe poi rimbalzare ma io fortunatamente non sono obbligato a fare una scelta per cui posso permettermi il lusso di rimanere flat peraltro di inverso a che punto siamo arrivati siamo a 20 barre sappiamo che si può chiudere con quante barre si può chiudere con minimo 24 ma serve un baffo di salita oltre le 24 si può andare a 32 43 quindi come tra l'altro vi avevo già annunciato da qui comunque non sta partendo un ciclo piccolo è come minimo partito mensile come vi dicevo e noi lo sapevamo già nel gruppo premium perché aveva violato uno swing e adesso che siamo a 20 giorni sappiamo che tra 4 giorni se non torneremo qui sopra cosa poco probabile se non arriveranno degli hft pazzeschi ma se non torneremo sopra 25.205 da qui sappiamo che può essere partito anche con 24 giorni sopra un massimo un semestrale inverso perché basta un mensile inverso lateral rialzista e per l'inverso rialzista significa che spinge verso il basso e noi ce l'abbiamo quasi mancano 4 giorni sappiamo che da qua può partire anche un tp4 inverso giusto? è un tp4 inverso minimo dura 96 giorni e qua ce ne sono 20 e se non si torna sopra questo massimo si rischia che sia o neutro o rialzista rialzista significa spinta verso il basso posso essere più chiaro di così? o sì? e con un tp3 bello fatto qua già serenamente fatto che cosa abbiamo? abbiamo la condizione del tempo per la partenza di un annuale ci piacerebbe avere anche lo swing già violato per dire da qui è partito un annuale sì tantissimo perché sapremmo che andando qui sotto sotto i 17.605 dollari avremo tutto un anno di discesa di aggiornamento di minimi e un anno ciclico dura minimo 192 giorni noi saremo a 77 capite che vantaggio avremmo? sapremmo che ad ogni chiusura di t più 3 o ciclo superiore quindi t più 4 ci sarà ci sarà un rimbalzo ci sarebbe un rimbalzo in questo caso ma che poi si tornerebbe a scendere e il rimbalzo c'è quando e quando deve chiudere l'inverso ok questa è la situazione per i prossimi giorni da monitorare in maniera estremamente attenta e quando ribadisco abbiamo una situazione in cui non sappiamo se un sesso timono 3 è partito da qui o da qui come minimo ci conviene aspettare la candela successiva a questa questa è quella delle 21 e 30 alle 22 e 15 partirà la prossima e sapremo se questa è la centratura corretta o se questa era la centratura corretta vedremo dove arriverà il rimbalzo e se avrà senso in base allo swing violato andare a fare degli short oppure no ma in questo momento un po' come ieri non è che ci siano molte cose da dirsi qui ha provato a sparare un po' in alto dopo che appunto si è fatta la discesa che noi ci aspettavamo e che abbiamo preso e con cui abbiamo guadagnato bene qui è andato parecchio in alto ma poi non è riuscito a fare se non discesa rimbalzo discesa direi che altre cose non ci sono da raccontarsi se non che qui abbiamo la possibilità che parta sia il punto da cui parte il quinto t-3 inverso e se questo sarà il punto da cui partirà il quinto t-3 inverso sapremo che in violazione dello stesso massimo a 19.908 dollari in caso di superamento prima delle 24 barre valuteremo eventualmente un long ricordatevi che peraltro questa candela se vogliamo andare in chiusura di un raccordo anche rimanendo con un minimo fatto quello attuale deve rimanere rossa per costituire la chiusura di un raccordo di grado t settimanale ma si deve tornare sotto le 19.540 dollari con una candela rossa per chiudere per avere la condizione necessaria e sufficiente per chiudere questo t-3 e anche il mensile il secondo t-2 altrimenti questo sarebbe da considerare un raccordo attenzione ai massimi per la chiusura potenziale di inverso grazie ancora per il vostro tempo e da Torino è tutto ci aggiorniamo o domani o quando ci sarà qualche cosa da raccontarsi perché davvero questi giorni è stato abbastanza noioso a parte lo shot che abbiamo preso buona serata a tutti arrivederci grazie a tutti